Santa Lucia è la notte più lunga che ci sia. Avete mai sentito questa cosa qui? Ma ve la devo spiegare per bene, ma prima di farlo potete iscrivervi al canale se non l'avete fatto, lasciare semplicemente un pollice in su, questo come supporto di questo canale, ma parliamo di questa storia, anzi questa festa tramutata in festa che quest'anno cade di martedì, ma il momento importante è la notte precedente, cioè quella in cui arrivano i regali. Eh sì, perché si diceva, ma ancora si dice, che anche se il calendario dice altro, che Lucia sia la santa luce quella che rischiara l'inverno dopo la notte più lunga che ci sia, questo è quel che viene detto. Lucia è patrona fra gli altri di Siracusa, degli occhi, degli oculisti, dei ciechi e degli elettricisti. Questa si festeggia il 13 di dicembre perché nel 304, in questo giorno, avvenne il suo martirio. Ma chi era Lucia? Lucia era una giovane di famiglia ricca, orfana di padre. Pregando Sant'Agata per la salute della mamma, ebbe una visione della santa che le rispondeva dicendo, ma perché chiedi a me quel che puoi ottenere da sola? E la ragazza allora decise di consacrarsi al Signore subito dopo la guarigione materna e destinò tutto il suo patrimonio ai poveri. Il suo promesso sposo la denunciopero, come cristiana, e fu allora perseguitata in base agli editti dell'imperatore Diocleziano. Passò una notte insieme ai soldati e fu sottoposta a diversi tormenti e alla fine fece una brutta fine perché venne decapitata. Santa Lucia, come Babbo Natale, porta regali quindi, e in alcune regioni del nord esiste la tradizione della lettera scritta alla santa per poter ricevere i doni. I piccoli devono andare a letto presto e lasciarsi un po' di cibo per Santa Lucia e fieno per l'asino che guida il suo carretto, non ci dimentichiamo di chi la porta. Dopo che se ne andò, secondo almeno la leggenda, la santa sarebbe stata autorizzata a tornare sulla terra per portare gioia ai bambini nella notte del 13 dicembre. Certo, più probabile che sia stato l'imperatore Costantino, portando la cristianità nell'impero romano a scegliere il giorno del martirio di Lucia come quello in cui si festeggiava al posto del pagano solstizio d'inverno. Quella di Santa Lucia, signori, non è la notte più lunga che ci sia, nonostante la rima venga bene, e lo sappiamo, l'avevo detto a inizio video apposta. Ma prima dell'introduzione del calendario gregoriano, nel 1500, era vicina al solstizio d'inverno, ma con il nuovo calendario c'è una differenza di poco più di una settimana. Quindi bisogna aspettare il 21, quest'anno per la notte con la maggiore durata dell'anno, cioè la notte del solstizio d'inverno. Molti riti ancora in voga in questa giornata sono legati proprio alla luce, e in Svezia la tradizione vuole che la figlia maggiore si vesta con un abito bianco e una cintura rossa e sulla testa una corona di foglie ai sette candele. E' lei a svegliare la famiglia portando i biscotti preparati il giorno prima. La dea antica che si collega a Lucia è Artemide, cui era consacrata all'isola siracusiana di Ortigia. Sono entrambe vergini e Artemide è ricordata anche come dea della luce. C'è un'affinità anche con Demetra, dea dei campi, e la leggenda vuole che la notte che precede il 13 di dicembre la santa voli sui campi con una corona di luce per poter riportare fertilità. Santa Lucia viene di solito ritratta con un piattino su cui sono posati i suoi occhi, e non si trova però fondamento dell'episodio della santa che si strappa gli occhi, che è diverso. Il fatto che sia patrona della vista è legato al nome Lucia, da lux, luce, in latino. E questo signori è tutto per questa storia di assoluta curiosità. Vi ringrazio per l'ascolto, noi ci sentiremo alla prossima, sempre su Pausa Caffè, mi raccomando, vi aspetto.